C'è anche il sentiero dei lupi fra i dieci progetti finanziati da Fondazione con il Sud dalla Fondazione Apulia Film Commission, nell'ambito del bando Social Film Production con il Sud. Iniziativa volta a raccontare il mezzogiorno e i suoi fenomeni sociali attraverso l'incontro fra imprese cinematografiche e terzo settore. Il docufilm del regista Andrea D'Ambrosio, frutto della collaborazione fra la Fondazione Picenza, la società Jupiter Group e l'associazione WWF Silentum di Salerno, è stato selezionato tra oltre 160 proposte pervenute e si è classificato al primo posto nella sezione ambiente. Sicuramente soddisfatto, fatemi ringraziare la Fondazione con il Sud e Apulia Film Commission che ha creduto e quindi poi ha finanziato questo bel progetto del regista e amico Andrea D'Ambrosio, Uomo del Sud che ha già raccontato storie importanti e quindi spero che questa possa essere in linea con gli altri suoi lavori. Ringrazio la Jupiter Group che è un partner, il WWF Silentum che è la rete partner che abbiamo messo insieme. Bisogna dire che con Andrea in pochissimi minuti leggendo il bando abbiamo pensato di poter realizzare un progetto che fosse in linea e che raccontasse il nostro Sud, le sue eccellenze, il suo ambiente e grazie anche al racconto di Marco Garaverni siamo riusciti poi ad avere quest'ottimo risultato. da domani tutti al lavoro per poter iniziare questo docufilm. L'idea nasce un po' di tempo fa, io avevo voglia di raccontare, di fare un racconto sulla mia terra che è poi il Cilento e di ritornare un po' a raccontare l'ambiente dopo altri documentari che avevo fatto su questo tema e mi incontrai Piernazzari Antelmi che è stato il responsabile del WWF Campania per tanto tempo e mi accompagnò a Roma alla sede del WWF nazionale e lì incontrai Marco Garaverni. Marco Garaverni è uno studioso di ecosistemi, uno dei maggiori conoscitori dell'habitat animale al mondo, soprattutto di lupi, orsi e da lì da questa conoscenza mi è nata la voglia di raccontare proprio questo mondo dei lupi, non raccontando solo il lupo in sé stesso, ma raccontando proprio anche un mondo che è quello che poi circonda questo animale e raccontare soprattutto il lavoro di Marco nella ricerca di questo tipo di animale che è un po' un emblema di un mondo in estinzione, diciamo così, e quindi è anche un po' il sentiero dei lupi, è anche un po' la metafora del sud che si estingue insomma, ma è anche un sud che poi rinasce perché in molte parti del meridione, quindi nel Cilento, il lupo sta tornando.